pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati eccoci alla solennità di pentecoste ovvero sia del dono dello spirito santo lo spirito di dio irrompe e si rende stabilmente presente nel cuore dei credenti e sono inviati a loro volta a portare a trasmettere questa esperienza d'amore meravigliosa potremmo dire che la pentecoste è il fine della vita morte risurrezione del signore egli non è venuto solo per rivelarsi e farsi conoscere o tantomeno per risorgere lui e dirci quanto sia bravo ma è venuto per la nostra salvezza per comunicare anche a noi la sua vita divina lo spirito di dio che ci rende figli e ci fa vivere una vita nuova allora noi in questa riflessione vediamo in particolare due punti un po andiamo a riscoprire il senso della pentecoste e poi cerchiamo di cogliere qualcosa sull'esperienza della pentecoste come giovanni la propone nel testo del vangelo anzitutto partiamo dal senso della pentecoste se diamo un'occhiata alla storia ci rendiamo conto che questa festa già esisteva nel giudaismo molti secoli prima era la festa delle settimane la festa del raccolto quando si offriva a dio la primizia del grano poi è stata arricchita di un altro significato la festa cioè del conferimento della legge di dio a mose sul sinai ricordate quando dio dà le dieci parole incise su due tavole di pietra le consegna a mosè le parole da custodire vivere per stare in alleanza con dio qual è l'esperienza che poi vive il popolo di israele che i comandamenti si li conosce ma non riesce a viverli della serie so qual è il bene ma non riesco a compierlo allora secoli dopo il profeta geremia profetizzò che un giorno il signore avrebbe stabilito una nuova alleanza col popolo ma non più incisa su tavole di pietra ma nei cuori ed eccone il compimento si è passati dall'alleanza di mosè alla nuova alleanza proposta da gesù infatti lo spirito santo è la terza persona della santissima trinità che in teologia è definito come l'amore che unisce padre figlio potremmo dire l'amore in persona che significa dunque che lo spirito santo irrompe e si rende presente nella vita di un credente che questa persona prende il cuore a gesù fa esperienza di quest'amore di dio della presenza di dio in lui che lo rende capace di amare lo spinge delicatamente lo aiuta lo trasforma lo divinizza capite non più una legge scritta sulle tavole ma su tavole di carne nei cuori ripeto cioè dio dal di dentro ci rende capaci ci spinge ad amare ecco il cristiano è colui che fa esperienza piena di dio nella sua vita immerso nella trinità unito a dio dal battesimo diventa tempio dello spirito santo potremmo dire tabernacolo vivente chiamato ad approfondire nell'arco della sua vita questa unione questo rapporto con lo spirito che vuol divinizzarlo vuol portarlo ad una pienezza umana e spirituale inimmaginabile ma è chiaro che può agire a seconda dell'apertura di cuore dell'intensità del desiderio e anche del lavoro su se stesso che la persona opera allora uno potrebbe chiedersi ma come faccio a ricevere allora questo spirito vabbè io l'ho ricevuto nel battesimo nella cresima ma come faccio a ravvivare in me questa presenza dove si compra non si compra si può mettere da parte formato riserve per l'inverno no lo spirito santo si invoca si chiede la prima lettura di oggi vediamo gli apostoli e maria riuniti insieme nel cenacolo in preghiera gesù ha legato il lo spirito alla preghiera ha detto il padre non lo dà a tutti ma quelli che lo chiedono e lui stesso prega per questo dicendo pregherò il padre perché vi dia un altro consolatore per lo spirito dobbiamo pregare così come per pregare abbiamo bisogno dello spirito dunque vogliamo riceverlo ci sentiamo deboli desiderosi di forza ci sentiamo freddi senza fervore o rigidi ribelli e vogliamo essere più obbedienti preghiamo invochiamo lo spirito santo spirito di dio scendi su di me è lui il motore della vita cristiana lo spirito di figli lo spirito di dio in noi secondo punto cerchiamo di cogliere qualcosa dal brano di oggi notiamo che i discepoli erano rinchiusi per la paura sono lì rintanati per la paura dei giudei per la paura di morire di soffrire gesù si rende presente lì il risorto entra porte chiuse dice pace a voi bellissimo e discepoli al vederne le piaghe gioirono ecco un primo punto vedete noi spesso nella vita siamo incastrati nelle nostre paure paura di non riuscire di soffrire di fallire di poter sbagliare ecco il contatto con il risorto con gesù è principio di vita nuova il contatto con lui che è fonte sorgente di pace che non è assenza di problemi ma è la shalom ebraica una pienezza di vita che ti è comunicata quindi c'è un contatto con risorto poi gesù cosa fa soffia lo spirito santo ecco il soffio ci richiama il libro della genesi quando dio crea l'uomo insuffla in lui un alito di vita cosa vuol dire dunque questo che il contatto con risorto è principio di vita nuova cioè lo spirito di dio da vita nuova comunica l'esperienza della vita eterna di dio al nostro cuore ci fa nascere secondo una figliolanza divina gesù disse a nicodemo che bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito io mi ricordo sempre una persona alla quale annunciamo l'esperienza del perdono di dio della possibilità di vivere una vita nuova un uomo straniero che si capiva lavorava nell'ambiguo e veniva da un passato ateo cresciuto in un paese comunista in albania quando gli abbiamo annunciato l'esperienza dell'amore di dio dell'offerta della salvezza per tutti anche per lui mi ricordo la domanda che fece quest'uomo ma dio può fare questo anche nel cuore di un assassino ecco mi è sempre rimasto in mente sì dio può far rinascere chiunque a vita nuova in qualsiasi tappa si trovi della sua vita ecco cristo qui si manifesta come colui che dà vita nuova che libera dal peccato dal male il cuore dell'uomo quindi abbiamo dei discepoli rintanati per la paura il contatto con gesù li riapre alla gioia ricevono questo spirito che potremmo dire li risuscita vita nuova e vengono inviati per perdonare soffiando su di loro gesù disse a chi perdonerete i peccati saranno perdonati a chi non li perdonerete resteranno non perdonati cioè cristo li invia in missione ecco c'è una missione da compiere la chiesa è inviata per trasmettere la misericordia di dio per aiutare le persone ad aprirsi a questa esperienza di rigenerazione di vita nuova di amore di dio nel loro cuore qui questo testo è stato poi interpretato come anche proprio il sacramento del battesimo e soprattutto della confessione sacramentale che reinnesta in dio fa fare esperienza del suo perdono ma potremmo anche vedere la serietà l'importanza del mandato di gesù in queste parole un mandato che è per tutti gesù qui sta dicendo se non perdonate voi ma chi perdonerà chi porterà la mia misericordia chi porterà il mio amore nel mondo se non voi ecco nelle pillole concludo vi raccontare una piccola storia di una persona che si andava lamentando davanti al male che c'era nel mondo e c'è gente che soffre e c'è gente rancorosa e c'è gente arrabbiata e si lamentava con dio ma perché non fai nulla ma perché non fai nulla ma perché non fai nulla una notte fece un sogno come un bambino vide gesù che gli sorrideva e gli diceva ho sentito che ti chiedi perché io non faccia nulla sì signore ma guarda e gli mostrò le piaghe io già ho fatto tutto però se questo non fosse sufficiente ho fatto anche un'altra cosa ho fatto te giovanni paolo secondo disse che ogni cristiano ha la missione di cristo anche noi siamo inviati per trasmettere con le nostre parole e i nostri gesti il perdono e la misericordia di dio la cosa più seria più decisiva più bella più importante che tutti cercano allora chiediamo al signore che da questo testo possiamo portarci due cose primo fare nuova esperienza noi di pentecoste come invocando lo spirito che ci va a fare esperienza d'amore dell'essere profondamente amati secondo che possiamo esserne testimoni e trasmettitori davanti a una generazione assetata di dio molti si lamentano e dicono che è una società scristianizzata che i giovani in chiesa non ci sono che la gente si allontana guardate che è un'occasione fecondissima perché la gente ha desiderio di dio di verità d'amore di bellezza ma non dimenticatelo non dimenticarlo dio ha fatto anche te che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti